cari amici oggi ho letto che il cantante jay ax si è lamentato del fatto di lavorare meno da quando ha preso posizione contro salvini ora premetto che sono un fan di jay ax lo seguivo ai tempi degli articolo 31 ho continuato a seguirlo anche nella sua carriera solista lo trovo divertente però volevo dirgli ma scusa ma caro jay ax ma se davvero parlare contro salvini è così pericoloso com'è che tutti gli artisti con rarissime eccezioni si sono schierati contro salvini quelli giovani tipo gali ma anche tutti gli altri come mai a chi parla male di salvini sono aperte le porte di grandi case discografiche grandi di la grande editoria i grandi giornali e così via com'è che invece a chi difende salvini oppure a chi semplicemente ha delle tesi in qualche modo simile quella di salvini pur non essendo salviniano ecco come mai invece a questi la grande editoria se la possono scordare le grandi case discografiche se le possono scordare i grandi giornali se li possono scordare ma insomma com'è sta storia jay ax dai se hai meno occasioni di lavoro forse perché la tua musica è meno bella rispetto a un tempo meno interessante invertire la realtà di certo non ti aiuterà a scrivere canzoni migliori o forse sì chi lo sa